Il libro è una storia di Gesù, di sicuramente, ma sicuramente per la quale è sicuramente che le attività di queste siano le tutte le risorse della nostra città, pertanto mi sono veramente scritto uno studio molto politico per cercare di capire che poi possiamo donare, salutare qualcosa di veramente importante della nostra città, e la pubblica, sicuramente del mondo, invece, come il culturso del mondo, la proposta, il il mondo, la proposta nazionale, come si utilizza la proposta di Gesù, che non èuinamente un scenario che sta oggi in grado nel meglio tutto quello che può essere una città di Gesù. Anche per dire, se proprio vogliamo parlare di quelli che sono gli artisti, ma non si è scritto qui. Penso di tutto quale che sappiamo che le nostre artisti che hanno altri problemi con l'area ambientale, le nostre artisti, ad oggi, si sono chiusi le azioni che, al tempo, sono avuto la politica di queste altre, ho fatto una proposta di effettuare una visione a forza di questa problematica, che ci ha giustato, quale è il stato attuale? Mi fa piacere prevedere e in progettare quale è il futuro di queste altre, se ciò che si aspetta la città di queste altre, mi fa il mio piacere, a 30 anni, prevedere quindi un piano di politica per queste altre. Qui, di nuovo, ha la proposta, ha il mio piacere, ha il mio piacere, ha il mio piacere, ha il mio piacere, ha il mio piacere. Il caso contrario, se le mostrere, si sono state contro la Città. Grazie. Alcesto, per intervenire il consiglio di rispondere. Grazie a tutti.